Guardia di Finanza al lavoro al fine di esaminare i documenti e i computer requisitieri nell'ambito del blitz eseguito per far luce sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Gela. Le fiamme gialle, dirette dal comandante Massimo De Vito, stanno accuratamente controllando il materiale sequestrato negli uffici della Tecra, la società campana che dal 2013 gestisce il servizio in città. Documenti e personal computer sono stati prelevati anche al Comune nelle abitazioni di alcuni amministratori e nella sede del lato CL2. Si scava nella gestione dell'appalto. Al momento attuale sono due le persone iscritte nel libro degli indagati. Si tratta di uno funzionario della ditta, Antonio Balestreri, 63 anni, ritenuto l'amministratore di fatto, e di un impiegato comunale, Giuseppe Encardona, di 57 anni, in servizio nell'assessorato all'ambiente. L'accusa è di frode in pubblica forniture. L'indagine è coordinata dalla Procura di Gela, diretta da Fernando Asaro. Sono state tantissime le denunce giunte al Palazzo di Giustizia e in più di un'occasione, durante i lavori del Consiglio Comunale, non sono mancati accuse e veleni. Una vicenda, quella legata proprio alla gestione dei rifiuti, che ha creato numerosi debiti fuori bilancio. Intanto, in una nota stampa, l'azienda Tecra Servizi SRL esprime la massima serenità e fiducia nella magistratura dopo il controllo avvenuto ieri mattina presso i propri uffici da parte della Guardia di Finanza. Alessio Balestrieri, a capo della Holding, che comprende diverse aziende, tra cui Tecra, sottolinea che la diffusione di voci infondate ed incontrollate non può scalfire anni di lavoro effettuati con passione, professionalità ed esperienza al servizio dell'ambiente e del cittadino, nel massimo rispetto delle normative vigenti. La Tecra, inoltre, precisa che per la gestione del servizio a Gela sono già stati effettuati tutti i controlli necessari e non lesina costanti monitoraggi interni per verificare il corretto andamento delle attività nei termini di legge. Per questi motivi, l'azienda resta a disposizione di istituzioni, autorità e forze dell'ordine per ogni opportuno chiarimento, certa della bontà del proprio agire. Nel frattempo, Tecra continuerà ad operare e a svolgere al meglio l'attività consapevoli di rendere un servizio alle generazioni future.